Ciao, vi presento Tamburino. Il mio tentativo è di realizzare un tamburello midi. Per chi non lo sapesse, il tamburello è una percussione tipica del sud Italia. Ho suddiviso idealmente l'area del tamburo in diverse parti, che ho ritenuto utili per differenziare i suoni. Ad ognuna di queste aree ho segnato un sensore di forza, che invia il suo segnale a una scheda elettronica, e precisamente un Arduino Uno. Oltre ai sensori di forza ho anche utilizzato un accelerometro per poter gestire anche il suono dei piattini, che sono tipici di questa percussione. Per cercare di rendere più realistico lo strumento, ho deciso di utilizzare l'area inferiore del tamburo non per gestire un suono, ma bensì per gestire il pitch delle altre notte. Ad esempio. Come vi dicevo prima, tramite un accelerometro ho cercato di simulare il suono dei piattini. Questo è la scatola in cui ho inserito Arduino. Come vedete l'ho dotato di due pulsanti e un display a sette segmenti. Questo perché è possibile selezionare fino a 16 canali midi tramite i pulsanti e visualizzare il canale che si sta utilizzando tramite il display. Ho realizzato un software che permette di assegnare l'altezza del suono ad ogni aree del tamburo, questo per ogni canale midi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.